Grazie 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 7-9 5 секунд попало 8-9 8-9 9-9 9-9 9-9 10-9 2 2 2 10-9 10-9 Grazie a tutti. 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 6-2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 6-6. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 12-9. 8-9. 9-9. Réalda notando le Zimmerman. 9-9. 8-9. 10-9 6-9. 7-9. E' questo... Ah! E' qui qui ci? Voi! Voi! Questo è il risultato che non mi ha mai avuto. Voi! 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 Buongiorno! Oh! Voi senti! Voi senti! Voi senti! Voi senti!